Nonne, mamme, figlie, donne di ogni età, si incontrano, si confrontano, portano qui i loro uomini, credono nella prevenzione, l'unica forma efficace per scongiurare lo spettro, il tumore a seno che ogni anno colpisce 40.000 donne in Italia, una diagnosi ogni 15 minuti, ancora troppe, le donne sconfitte, quelle che il tumore a seno lo scoprono troppo tardi, 11.000 ogni anno. Con la diagnosi precoce, cioè accorgendosi presto di questo problema, facendo ogni anno una mammografia, per tutte le donne è un modo per proteggere la propria salute e per cambiare la storia di questa malattia, per guarire con interventi meno invasivi e senza dover ricorrere a terapia faticosa. La battaglia a colpi di prevenzione tinge di rosa le città, palloncini, magliette e non solo, qui siamo a Bracciano, vicino Roma. L'appuntamento è come ogni anno nel cuore di Roma, dove domenica prossima migliaia di donne correranno una sfida contro la malattia.